Abbiamo passato gli ultimi tre giorni in giro per Luca, raccogliere quelle che erano le suggestioni, le immagini e i suoni che vogliamo portare all'interno di questo piccolo racconto, questa sorta di sinfonia che vogliamo creare per la città di Luca e per il Luca Summer Festival. Portare quella che è stata la mia ricerca creativa nei miei lavori personali all'interno di questo progetto è stato sicuramente interessantissimo, è stato anche molto emozionante perché alla fine non ho mai girato niente a Luca e pochissime cose in Italia, forse in realtà di progetti veramente strutturati in Italia non ho mai fatto niente, ho girato in Siberia, ho girato in Cana, ho girato in Inghilterra, in Austria, però in Italia in realtà adesso ho dei progetti in arrivo, però diciamo questa è quasi un'iniziazione ed è stato molto bello farlo nella mia città, è stato molto emozionante.